Ben trovati amici, eccoci l'informazione di Terribrea sul canale 110. Vi abbiamo fatto vedere ieri delle immagini che fanno riferimento alla settimana dell'ambiente che è stata voluta fortemente dal libero consorzio dei comuni della ex provincia di Ragusa. Perché ritorniamo a questo argomento? La settimana durerà, una settimana, ci sono anche delle attività molto interessanti, la ricerca, la raccolta di spazzatura sott'acqua, ci sono tante iniziative molto interessanti. E però la cosa importante da dire secondo me oggi è che effettivamente il cambiamento climatico ha avuto i suoi cambiamenti. Perché abbiamo visto che per esempio al nord, in questi giorni, in Germania la settimana prima, ma in Lombardia, nel Biellese, c'è stato un cambiamento del tempo pauroso. Guardate che chicchi di grandire che sono caduti ieri e l'altro ieri nella zona di Biella e nella Lombardia. Queste cose, se vanno in destra, fanno male. È chiaro che sono eventi straordinari, ma questi eventi si verificano generalmente dopo periodi molto caldi. E da noi è una cosa che accade regolarmente. Se voi ricordate, dopo l'està, dopo agosto, perché si dice che agosto è capo dell'inverno, a settembre ci sono sempre state delle piogge molto forti che arrivano regolarmente sul nostro territorio. Quindi qui oggi non è più, non andiamo col gasolio, ma andiamo elettrico. Va bene, senza dubbio in dieci anni avrà un suo significato. Però oggi quello che bisogna fare, bisogna intervenire sul dissesto idrogeologico, con particolare attenzione alla pianificazione delle azioni di difesa del suolo, alla pianificazione e alla progettazione dei monitoraggi da realizzare anche con nuove tecniche. Bisogna infatti essere certi e quindi bisogna garantire alle acque la possibilità di scorrere senza intoppi, di non creare imbuti, pulire i tombini, tutte queste cose non si possono fare il giorno che si mette a piovere. Si devono fare prima. Perché ora, per esempio, se vi facciamo vedere le foto di ieri della Dica, di domenica della Dica, la Dica fa paura, poveraccia, è come la Dica, come si chiama, il lago di Sambuca che ha fatto venire fuori delle antiche fortificazioni. Qui la Dica sta facendo vedere delle cose che erano anni che non vedevamo, le antiche fattorie sommerse dall'acqua. Perché? Perché vedete tutta la riva, non c'è più l'acqua, è arrivata al minimo. E la Dica la continuiamo a sfruttare, non diamo più acqua al fiume, con la Dica, non so, diamo il potabilizzatore a scicli, a morica, la gente non ci fa attenzione e la Dica si sta asciugando completamente. Quando poi si metterà a piovere, perché si metterà a piovere, perché è così da sempre, magari fa due o tre anni di siccità. Poi piove, se noi non siamo organizzati e attrezzati, poi saremo lì, ma che fai il cucco? Ma no, io non faccio il cucco. Ma l'hanno detto in Germania, in Germania che sono evoluti, la antropizzazione esagerata di quelle aree dove c'erano molti fiumi che insistevano, la Moser, il Reno, era la Renania, una zona particolarmente ricca di acque, ma siccome c'era troppa antropizzazione e quindi poco controllo del territorio, quando i fiumi sono andati non è stato possibile controllarlo. Se ci avessero pensato prima, forse, non sarebbe accaduto questo. Va bene? Questa è l'apertura del nostro telegiornale. Invece andiamo a aprire con una intervista, perché da tempo si parla di vittoria, perché ci saranno le elezioni a ottobre, 10 di ottobre, mi pare. Speriamo che ci siano queste elezioni, ormai sono anni che se ne parla, e però uno degli argomenti che è sempre stato al centro dell'attenzione è il mercato di vittoria. Il vecchio presidente si è dimesso che si fosse Puccia, ora c'è il nuovo presidente che si chiama Pippo Zarba, che mi sembra animato da tantissima buona volontà. Allora, lo abbiamo raggiunto per telefono, c'è qualche difficoltà tecnica, c'è qualche difficoltà di collegamento non tecnica nostra, le linee internet sono quelle che sono, però l'intervista in buona parte si può comprendere, a parte qualche piccolo problema, però mi pare che sia un'intervista interessante. Pippo Zarba al telefono. Allora, con noi al telefono c'è Pippo Zarba, il nuovo presidente dei concessionari del mercato ortofrutticolo di Vittoria. Il collegamento è un po' sofferente, però speriamo di riuscire a fare questa intervista. Allora, Pippo, intanto complimenti per questa nomina. Ecco, perché a Vittoria è così difficile guidare i concessionari? Ma non è difficile secondo me guidare i concessionari. Il problema secondo me è che comunque se non c'è un'ottima comunicazione con gli associati, poi alla fine gli associati praticamente non si innamorano dell'associazione e vanno ognuno per i fatti loro. E questa è una cosa che purtroppo è deleteria per quanto riguarda l'associazione. Infatti, come obiettivo principale di questa presidenza è quella di riportare tutti gli associati al centro dell'associazione, di farli vivere l'associazione, di renderli partecipi uno per uno, aggiornarli tutti i giorni delle cose dell'associazione, come si stanno sviluppando, in modo di farli sentire anticipi. E non ci sono fughe in avanti da parte di qualcuno, come c'è stato in passato, che poi creano malumori e disaffezioni verso l'associazione. Quanti sono i concessionari che aderiscono a Vittoria con l'associazione? Le concessionari che aderiscono l'associazione sono 40, erano 44 prima dell'elezione, erano 44 con la precedente presidenza, con la mia presidenza, 4 nuovi e altri 10 dovrebbero associarsi entro e fino all'anno perché inizieranno con l'anno nuovo. E dunque penso che abbiamo un numero forse più ampio di tutti, di tutte le presidenze come associati. Hanno sempre detto che il mercato di Vittoria è il cuore dell'economia cittadina, è vero questo? Certo, il mercato di Vittoria è il volano della città, l'economia cittadina si basa sul mercato di Vittoria perché solo il mercato di Vittoria fattura all'incirsi 400 milioni di Euro, considera che con tutto l'intotto arriverà su un miliardo di Euro e dunque capisci che è una cifra enorme di cui Vittoria gode praticamente. E certo, senti mi hanno detto una volta che partono 100 camion anche di più al giorno da Vittoria, è vero questo? Sì, molti di più, sì. Molti, molti di più. In piena campagna quello che parte dal mercato e quello che parte praticamente dai magazzini molto di più. Perfetto. Senti, qual è il problema del mercato? La grande distribuzione o il rapporto con i produttori? Ma il rapporto con i produttori, allora, nel passato c'è stato sempre un tentativo di metterci l'uno contro l'altro, quando praticamente secondo me la funzione del posteggiante, del commissionario è quella come quella dell'avvocato, come quella del commercialista, deve essere un rapporto di fiducia, se non hai la fiducia cambia commissionario, perciò non vede i motivi perché ci deve essere una lotta praticamente o motivi praticamente di rancore tra produttori e commissionari, visto che comunque si sentono e si vedono tutti i giorni, si commercializza la loro merce e proprio è un discorso basato sulla fiducia. Però purtroppo qualcuno ci ha marciato negli anni passati, ci ha messo contro e questo non ha favorito i rapporti, diciamo che praticamente ci sono stati. Oggi penso che il vento sia cambiato, il produttore si è reso conto che il male non è il mercato di Vittoria, nel male purtroppo è la commercializzazione in generale, perché con l'arrivo della grande distribuzione organizzata, qui sfoglie una distribuzione organizzata, ha ribaltato le regole della domanda dell'offerta e dunque il mercato ne soffre. Ma voi siete in grado di intervenire? O la grande distribuzione effettivamente ha il coltello dalla parte del manico e non si può fare nulla, potete fare qualcosa? La grande distribuzione ha il coltello dalla parte del manico perché ormai una volta eravamo soli a produrre e dunque ovviamente o acquistavano da noi o acquistavano noi. Oggi ormai con tutti i paesi frontalieri del Mediterraneo, Marocco, Tunisia, Egitto e via dicendo, che tra l'altro hanno impiattato le serre con i progetti Meda che praticamente abbiamo aiutato, le abbiamo aiutato, le abbiamo finanziate in Europa per farci concorrenza, questo è un discorso molto più lungo, ovviamente la Spagna che è cresciuta in maniera smisurata, ora ci sono nuovi paesi concorrenti tipo Turchia, tipo Albania che comunque ci creano dei problemi, ovviamente capisce che non siamo più soli, non essendo più soli praticamente la grande distribuzione ci impone dei prezzi perché ovviamente può acquistare da altre parti a prezzi minori e dunque o ci adattiamo o ci adattiamo. Quando c'è molta offerta è chiaro che i prezzi cambiano. Senti, andiamo a chiudere, intanto so che c'è questo problema del tomato brown, è un problema vero? Sì, questo qui lo dovete paragonare al Covid per le persone per l'agricoltura, è un cancro in questo momento, molte aziende stanno estirpando perché quando il prodotto è malato non si riesce a vendere perché ovviamente non è più commerciabile, la gente come incomincia a vedere nelle piantine che sono attaccate al tomato brown, incominciano a estirpare perché poi tra l'altro è un virus che contagia immediatamente tutta la produzione e dunque se poi ci consigliano praticamente di bruciare le piantine perché essendo un fungo bisogna evitare che si propaghi, comunque è un problema sì e qui la regione deve mettere mano perché sennò tra un po' gli agricoltori sono con le spalle al muro perché le materie prime sono aumentate a dismisura, poi se consideriamo che anche le produzioni si sono ridotte capite che non ce la faranno più. Senti, e a questo proposito l'ultima domanda, che rapporto ha il mercato di vittoria con la politica, intanto diciamo la politica locale, c'è nel senso che voi avete i commissari, ora ci sarà il sindaco, speriamo che ci sia un sindaco a vittoria, che rapporto avete? Ma allora il rapporto qui è un discorso un po' più lungo perché qualche giorno fa, forse non so se lo sai, è stato annunciato che il mercato di vittoria dal presidente Pallottini, che è il presidente di Talmercati, entrerà a far parte del circuito di Talmercati e per far parte del circuito di Talmercati il mercato dovrà svincolarsi dal comune e sarà totalmente gestito dall'ente gestore che in questo momento è la vittoria del mercato, che devo dire ha veramente due manager illuminati che sono veramente in gamba, sono illuminati, hanno molta lungimiranza, che è una cosa, una dote che io apprezzo, ne abbiamo già accennato ufficiosamente, proporremo dei progetti che loro sono ben propensi di visionare, di vagliare e dunque avremo un ruolo importante in questa fase e di cui tra l'altro mi mando di avere ottimi rapporti con loro, ma come ottimi rapporti con i quattro candidati al sindaco, dunque praticamente il rapporto politico è un ruolo importante, questa presidenza deve essere imparziale, perché è una tornata elettorale molto combattuta, è stata molto lunga e comunque chiunque salga penso di avere degli ottimi rapporti, dei rapporti personali, di stima e di amicizia con tutti, dunque penso che non avremo nessun problema a confrontarci. Scusa, spiegami questo fatto di Talmercati un attimo, cosa vuol dire? Quindi deve diventare un ente autonomo, però un più comune, questo e quello? Esatto, mentre il mercato di Vittoria è stato gestito dal comune e poi tramite la Vittoria Mercati, praticamente con l'ingresso di Talmercati il comune si svingolerà e praticamente sarà l'ente gestore con i Talmercati a gestire questo mercato e considera che praticamente questo andrebbe a fare parte di un gruppo di mercati, noi saremo il diciottesimo mercato che fa parte di Talmercati e Talmercati ha comunque la possibilità di cambiare le sorti del mercato strutturali perché ha ovviamente grossi finanziamenti a tua proda e in più ha anche contatti commerciali rilevanti che potrebbero veramente fatti utili. Benissimo, va bene, io ringrazio Pippo Zappa, so che hai fatto in questi giorni il direttivo quindi la squadra, vuoi citare qualcuno? Non so se vuoi citare… Sì, li potrei citare tutti, però sono tanti, ti posso dire solo che è un direttivo composto da concessionari che sono commissionari, sono grossisti e sono OP, dunque prende sia l'organizzazione di produttori, prende praticamente i commercianti e prende i commissionari, dunque è un direttivo perché mi è sempre piaciuto spostare i punti di vista e capire diverse posizioni, dopodiché si fa una sintesi, sono tutte persone che sono giovani, però che hanno già esperienza e c'è qualcuno che è già noto come me, con tantissima esperienza e dunque è un direttivo misto che ha veramente una gran voglia di lavorare e una gran voglia di cambiare il mercato e penso proprio che in questo momento ci siano le condizioni per poterlo fare. Sì, speriamo, speriamo. Allora, ringrazio Pippo Zarba che è il presidente dei concessionari del mercato di Vittoria, abbiamo capito che Vittoria ha tutte le possibilità per crescere, sappiamo che ci sono tante difficoltà, ma mi pare che Pippo è in gamba e quindi vuole impegnarsi. Speriamo, speriamo di non deludere nessuno, io spero di non deludere nessuno, continuare a essere umido come sono sempre stato e andiamo avanti e vediamo quello che ci siamo a fare. Grazie, grazie Pippo Zarba. Grazie a te, grazie e buona serata a tutti. Grazie. Grazie a te, grazie a te, grazie a te. Vi aspettiamo a Lidazzurro a Magna di Ragusa per una splendida stagione, sicura e con una grande cucina e una grande cantina. Un bacio a tutti voi. Grazie a te, grazie a te, grazie a te. Bene, quindi questa era la notizia interessante, il neo presidente dei concessionari di Vittoria. Sono circa 48, quindi un bel po', e poi fa impressione sapere che ogni giorno 200, 100, 200, 300 camion partono da Vittoria per andare al nord. Ora io mi chiedo perché non si è mai riuscito a fare il treno, a fare le vie del mare? Non lo so, credo che con questi numeri non sarebbe difficile pensare a dei servizi di nave o di treno senza grosse preoccupazioni, perché i numeri ci sarebbero. Cambiamo argomento e parliamo dei no vax, perché, poi i numeri li sentirete dal nostro Stefano, ancora è prevista un'altra manifestazione, ma qui non siamo a parlare di no vax. Attenzione, li abbiamo visti quelli che non vogliono la vaccinazione, qua invece il problema è diverso. Il problema è quello del Green Pass. In molti chiedono che non ci sia questo obbligo del Green Pass per entrare in certi locali, perché il Green Pass potrebbe limitare l'ingresso e quindi anche limitare l'economia per coloro che vogliono lavorare. E quindi, oh, io non so se è giusto, però ci sono persone che hanno lanciato anche una legge, magari una proposta di legge, anche amici ragusani. La proposta è questa, nessuno ti obbliga a vaccinarti, non c'è problema, quindi se non ti vaccini non hai il Green Pass. Nessuno ti obbliga a vaccinarti, però è chiaro che se finisci in ospedale i costi della tua edigenza in ospedale li dovrai subire tu, cioè dovrai pagare tu, come in America. In America uno finisce in ospedale e sono cavoli suoi. Perché? Perché non è possibile che lo Stato ti dà la possibilità di vaccinarti e tu non ti vuoi vaccinare. e rischi di ammalarti tu, di ammalare gli altri. Poi sul Green Pass, ora vedremo cosa dirà il Governo nazionale, se sarà obbligatorio per tutto o ci saranno delle limitazioni, per esempio, o meglio, ci saranno delle deroghe per alcune categorie. Di questo però ne parleremo nei prossimi giorni. Invece un problema serio che riguarda la vaccinazione è far riferimento anche a coloro che non sono italiani, che non hanno la testa sanitaria, ma soprattutto si parla di extracomunitari, di gente che vive nella nostra città. E non sono pochi, cioè noi ci preoccupiamo del Green Pass, però poi sappiamo che ci sono centinaia, migliaia di persone che vivono da noi, ma che non si preoccupano del vaccino. Gianni Papa con questa intervista. Questa sera lo vedete alle mie spalle un collega, un uomo di quelli storicamente dell'Eblea turiudici, ma non nella vesta di collega o di giornalista, bensì di presidente di Ragusa al centro. Il proprio relazionato, questa sua presenza, si pone in relazione con un'iniziativa particolare, che a sua volta si collega con una realtà di cui il centro di Ragusa, la percentuale di, diciamo così, indigeni, penso che uscili dall'8, dal 7 al 10%, e quindi comporta la presenza di un po' tutte le etnie europee e non. Allora, turi, i punti di vaccinazione temporanea, che è un'iniziativa, poi spiegheremo perché è importante che venga ampliata nel tempo e che venga ripetuta, nascono da una considerazione che tu hai fatto. Ma siccome è giusto che tutti ci vacciniamo in questa zona dove gli irregolari, fra virgolette, sono tanti, chi provvede alla loro vaccinazione e tu come hai cercato di ovviare? Allora, il discorso è nato da un principio che noi ci siamo dati come Ragusa al centro, cioè gli extracomunitari sono una realtà con cui bisogna cercare di convivere, per cui di fronte a questa realtà cerchiamo di trovare una via di mezzo per vivere bene entrando. Tutti, certo. Ovviamente di fronte al problema Covid mi sono posto l'interrogatorio, ma dico questa gente, alcuni sicuramente saranno raggiunti dai loro canali, ma ce ne sono tanti che come fanno per il vaccino, abbiamo fatto come Ragusa al centro un incontro col sindaco, ho posto il problema, ma per fortuna devo dire che sia consiglieri comunali, ma anche dipendenti ASP, c'è Corrada Iacono e Cettino Raniolo come consigliere comunale che fanno parte del comitato Ragusa al centro, si sono dati da fare. Devo dire che anche se con un po' di ritardo siamo riusciti a fare, a ottenere da parte dell'ASP questo risultato, i manifesti li vedete alle mie spalle. Poi parleremo anche di questo che si imbaga. E qua dice il 28 luglio, piazza San Giovanni, piazza del Sagrado, dalle 18 alle 20. Esatto. Allora questo manifesto, che è quello che vedete voi, ce l'ho anche io in italiano, è risaputo, questo lo sanno tutti, che nel mondo del, diciamo irregolare o meno, l'italiano sia la lingua più diffusa. Chi viene dal Gambia, dal Senegal, e roba simile, parlano tutti l'italiano perfettamente. Meglio di noi probabilmente. E allora, cosa li ha detto? Ma li volete dare almeno in inglese, francese e arabo? C'è stato un po' di ritardo perché i manifesti, erroneamente, non so come è nata la cosa, sono stati stampati solo in italiano. Ho fatto presente che l'italiano era l'ultima lingua che poteva essere utilizzata. Poi c'è uno stannino che capisce al fine di incrementare. Per raggiungere questa gente e finalmente sono arrivati quelli in arabo, che sono quelli più chiari che avete visto poco fa. Eccoli qua. Allora, il discorso qual è? Meritoria l'operazione fatta da Corrada, Iacono, da… Devo dire anche il sindaco si è fatto promotore, per carità. Validissima la risposta dell'Asp. Però non ci possiamo fermare qua, perché vero è che oggi sono avvertiti e qualcuno, domani, spero, tanti, si porteranno in piazza San Giovanni per farsi vaccinare e tra un mese dovranno fare il richiamo. Ma è anche vero che tanti non saranno raggiunti tra oggi e domani. Quindi ci vorrebbero almeno uno o due bis. Secondo me bisognerà prendere in esame l'ipotesi di poter fare un bis, un tris, insomma, di fare qualche altra seduta. E soprattutto pubblicizzato un po' di più. È molto prima. È molto prima. È molto prima, perché non si può pubblicizzare due giorni prima. Ma questa gente, per carità, devo dire una cosa Gianni, io sono stato un po' in alcuni punti dove loro abitualmente si riuniscono. E devo dire che mi hanno ringraziato, perché alcuni erano stati raggiunti dai loro canali, altri no. Mi hanno ringraziato e sono sicuro che loro sono interessatissimi. Ma ci mancherebbe altro. Perché a differenza forse dei tanti italiani, questa è gente che capisce che cosa vuol dire... Capirebbe che a casa sua non glielo farebbe. Bravo. Che a casa sua i vaccini non glieli fanno e da noi hanno questa opportunità. Il problema qual era? Ma quelli che non hanno il permesso di soggiorno, e allora pregherei la regia di fare vedere... Si parla anche in possesso di codici STP ed Eni, anche non in... Perfetto. Praticamente è un documento che l'ASPA ha con cui regola questi vaccini, per cui si mettono in condizioni di essere poi richiamate, eccetera. Allora, il parole cuore vuol dire dalle 18 alle 22, intanto del 28 luglio tutti. Sì, sicuramente sì. Dopodiché, chi non viene dovrebbe tornare con un'altra iniziativa di questo tipo, e poi ci sono i richiami che sai, una volta che hai fatto la prima dose, nell'interesse di chi se l'ha fatta, si deve andare a fare la seconda. Tu mi hai... questo è l'iter, tutto sommato, devo dire, hai avuto risultato positivo in tempi anche accettabili, o quasi. Quello che invece ovviamente è venuto a mancare è la possibilità di dare contezza alla città di tutto questo, perché lasciando perdere noi, questa iniziativa praticamente è nata due o tre giorni fa, è stata ufficializzata. Io, ecco, su alcune cose avrei come comitato, come associazione Ragusa al centro, perché c'è, a volte c'è molta attenzione da parte dell'amministrazione nei confronti di Ragusa al centro, a volte qualcuno dell'amministrazione si dimentica di questa realtà, ti faccio un esempio. Prego. Nei giorni scorsi si è parlato della rivitalizzazione, io la chiamo, dell'ex biblioteca comunale che ora sarà... Piattiotti. Sì, altre conferenze stampa sempre legate a problemi del centro storico di Ragusa superiore, eccetera. Bene, quasi mai, quasi mai siamo come Ragusa al centro chiamati, non dico a partecipare, ma ad essere presenti per sentire quello che il sindaco e i suoi collaboratori hanno da dire. Io questo lo lamento perché dico non è possibile che noi dobbiamo di nostra iniziativa di volta in volta spingere per qualche cosa e poi veniamo regolarmente dimenticati perché evidentemente ognuno fa la sua strada e noi se ci siamo o non ci siamo interessa poco a qualcuno. E non voglio essere polemico perché... Però, le pare giusto insomma. A questo periodo olimpico, no? Io credo che se domani mattina andiamo male nel triathlon, poi è uno sport di una difficoltà disumana, e vuoi cercare, come è stato fatto per esempio con l'apesistica, oggi abbiamo preso il secondo gel, la seconda metà, li vuoi convolgere atleti e allenatori, non è che puoi farlo tu ex cattedra, perché quando poi dici vabbè ma qual è il problema di chi fa la pesistica, tu ti dici mi si perdoni l'accostamento sportivo. In realtà è così, bene. Allora, al di là di questo, comunque, è assodato che dalle 18 alle 22 del 28 luglio di domani ci sarà questa iniziativa. Tu mi hai già accennato, ma dai rumors, per quanto riguarda la componente, diciamo così, tra virgolette, come possiamo dire, non appariscenti, cioè quelli che a vario titolo non figurano gli elenchi, pensi che la risposta sarà positiva? Io lo penso e lo spero, principalmente lo spero, però penso pure perché da quei pochi che ho avvicinato stasera, distribuendo queste locandine, ho ricevuto dei ringraziamenti, perché come dicevi giustamente tu, loro sanno, capiscono che nei loro paesi difficilmente sarebbero vaccinati. E di sicuro non gratis. E di sicuro non gratis. E quindi credo che questo è un passaggio fondamentale. Probabilmente a livello anche di nuclei familiari. È fondamentale, se loro lo capiscono perché lo capiscono, io credo che domani qualcuno sicuramente si presenterà. E spero che siano in tante, purtroppo. Io oltre a questo, come te, mi auguro che la risposta che verrà data a questa iniziativa sia chiaro, non solo da parte anche del cittadino qualunque, del ragusano, in voglia di farci che questi punti di percezione temporanea, che quando sono stati messi in atto un po' in tutta Italia, hanno sempre portato a risultati notevoli. Anche in provincia del ragusano. Anche per voi potete, allora, noi possiamo poi raccontare, questo è un mondo in cui qualsiasi sistema analfabeta si mette a scrivere e parla come se fosse un professore universitario di virologia applicata. Ma lasciando perdere, è chiaro, i risultati sono quelli, i contagi ci sono, ma la viralità di questo morbo per chi è vaccinato è infinitamente minore, se non è addirittura ridotta a zero. E questo, se uno ci riflette sopra, non dovrebbe essere difficile capire perché. Ma al di là, non voglio entrare sul mondo dei Novaks e tutto, perché mi porterebbe molto lontano anche su aspetti giuridici che, credetemi, non sono esattamente come quelli per cui vengono spacciati di solito. Però, dicevo, al di là di questo, mi auguro che questa iniziativa abbia almeno un paio di ripetizioni, perché oltre alla diffusione che viene data dalla stampa, c'è anche il passaparola che è fondamentale. Sicuramente, di più. È quello che funziona di più, il tantam. Non è un accostamento ovviamente, però non c'è dubbio che il passaparola è il veicolo che funziona meglio. Sicuramente, perché vedi, tanti manifesti possibilmente neanche si fermeranno a guardarli, qualcuno per curiosità, ma tra di loro… Nei punti di aggregazione soprattutto. Esatto, funzionano. E questo è quello che speriamo. Allora, detto questo, ti dovrei chiedere un po' se ci sono, se tu nella tua qualità di presente, un'associazione che si occupa un poco delle realtà più o meno note, soprattutto le meno note, soprattutto quelle che hanno più motivo di essere portate. Com'è la situazione risposta a Covid in questo momento in città? Molto brevemente, città a mare. A mare, purtroppo, la risposta è… ci sono stati dei locali che sono stati chiusi per Covid, qualcun altro… Per Covid, diciamo, perché ci sono stati trovati dei positivi. Dipendenti positivi e quindi inevitabilmente sono stati chiusi. Gianni, tu capisci che in un momento del genere, in piena estate, a mare, chiudere un bar, chiudere un ristorante per 8-10 giorni, il danno economico è enorme. Per cui io… Bisognerebbe riflettere. Per esempio, l'ho visto, ci sono degli atleti anche italiani che hanno viaggiato con gente che aveva il Covid, eppure le gare le fanno lo stesso, fanno i tamponi, i controlli… Ma se non ce l'hai, non si può pretendere di bloccarlo il mondo. Troppo, per molti l'estate è diventato il momento in cui non c'è Covid. Vabbè, questo… E ricorderete quel triste momento di quella, diciamo, signora, che da non c'è Covid, non c'è Covid, la cosa grave è che certe cose diventano virali. Perché vuol dire che il nostro tasso di… come potrei dire, il nostro tasso è diminuito molto, lasciamo vedere. Purtroppo è così. Va bene, allora, ricordiamo l'iniziativa domani dalle 18 alle 20, Piazza San Giovanni, passi del Sagatto della Cattedale, per chiunque, comprese stranieri in possesso di codici STP ed ENI e anche non in possesso di permesso di soggiorno, che rientrino nell'età target, a proposito dell'età target qual è? Non l'abbiamo? Sarà dai 18 anni? Ma penso di sì, perché… E appunque glielo diranno, quindi a questo punto di faccio da due temporanei, complimenti per l'iniziativa, complimenti a te e a Ragusa al Centro che avete sollecitato a che questa iniziativa… Ebbè, mi auguro, ripeto, che siccome sono sicuro che avrà successo, venga ripetuta magari più di una volta, perché vaccinarsi, vaccinarsi, perdonate, io sono per la libertà di stare, ma non sono un no-vax, quindi non potrei, per me sarebbe… non riuscirei a dirlo. Va bene. Detto questo, grazie a Turi. Grazie a voi, grazie a voi. Questa è Tele Iblea. I nostri prodotti raccontano una storia meravigliosa. È la storia delle nostre famiglie. È la storia della nostra terra. La Sicilia. Oltre 40 anni di esperienza e le attrezzature più moderne e precise per garantire risultati certi ed accurati in tempi brevi. Laboratorio Analisi Battaglia. Corso Vittorio Veneto 757 Ragusa. Telefono 0932 191 5082. Il personale del laboratorio effettua prelievi a domicilio, idonee a tutte le analisi cliniche specialistiche. Il laboratorio Battaglia è tra i pochi in provincia ad eseguire specifici test sierologici, più approfonditi e più sensibili, autorizzati dal Ministero e dall'Assessorato alla Sanità per la lotta alla pandemia. E il prezzo è politico, perché è imposto dalla regione per questi momenti difficili. Laboratorio Analisi Battaglia. Corso Vittorio Veneto 757 Ragusa. Telefono 0932 191 5082. In un ambiente accogliente e rilassante, all'interno dell'hotel barocco Ragusa Ibla, lo chef Pippo Cabibbo vi aspetta per proporvi le sue specialità gastronomiche a base di genuini prodotti locali a prezzi davvero ottimi. Hotel e ristorante Il Barocco, Via Santa Maria la Nova, Ragusa Ibla. Telefono 0932 66 31 05. Parliamo del comune di Ragusa. E allora, intanto vi devo dire che domani, mercoledì, ci sarà una conferenza stampa al comune per parlare di quel progetto che era stato accennato la settimana scorsa quando si era parlato di alcuni interventi sia nella piazzetta Monsignor Tidona che nella facciata della vecchia biblioteca di Via Ecceomo. Si era fatto cenno ad un finanziamento di parecchi milioni, 44-45, per rimettere a nuovo una zona della città. Ragusa ha preso tre progetti e la stessa progettazione di Messina, per esempio Messina sta utilizzando questi fondi per i baraccati, Catania per altre cose. Ragusa avrà come idea quella, e ce lo spiegheranno domani bene, di buttare a terra delle case nella zona sotto il tribunale Via San Vito, Ponte San Vito e Compagnia Bella e creare un nuovo sistema abitativo più moderno con abitazioni da destinare a chi vuole trasferirsi lì. Di questo ne parleremo domani. Invece resta molto, dicevo, forte il problema dell'acqua. Ci sono molte polemiche, la gente dice ma porca miseria, pensiamo all'acqua piuttosto ad altro perché senza acqua non possiamo stare. E noi lo sappiamo perfettamente, ma il Comune si difende, come ormai è sua abitudine, su qualunque cosa, devo dire, l'amministrazione Cassì trova sempre la giustificazione. È vero, la colpa è di quelli di prima, non c'è dubbio, ma oggi bisogna intervenire dimenticando le colpe degli atti. Allora, vediamo cosa dice l'assessore Giuffrida che in Consiglio Comunale oggi fa il punto sulla questione acqua. Vediamo. Siamo esente, un saluto al sindaco, agli assessori presenti, ai consiglieri, a chi si sta ascoltando. Un aggiornamento sull'acqua, io ricordo sempre che non è vero che la situazione è come Agrigento e che quest'anno si sta verificando come Agrigento, come ha detto il consigliere Chiavola. Lo ridico perché lui ogni volta dice una cosa che va puntualmente smentita. È una situazione che a Ragusa negli ultimi 20 anni purtroppo si è verificata altre volte. Altre volte non come quest'anno forse, ma le ripeto che nel 2003 la situazione fu ancora più critica e nel 2007 ci fu emessa allora un'ordinanza dall'ora sindaco di Pasquale, nel 2007, l'ordinanza numero 215 del 2007, dove chiedeva ai cittadini di non utilizzare l'acqua potabile per irrigare i prati. Quindi se allora c'era già una situazione del genere, io mi chiedo perché da allora non è stato mai fatto nulla? Noi oggi invece lo stiamo affrontando, il consigliere Chiavola. Lei ogni consiglio lo ripetisce e io ogni consiglio lo ripetisco che noi stiamo, 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 stiamo nell'immediato agginando, ma non abbiamo bacchetta magica. Se in 20 anni non è stato nulla neanche all'inizio, oggi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo instaurato un servizio di autobotti che funziona, infatti i condomini vengono serviti nelle 24 ore, riusciamo a soddisfare tutte le richieste che arrivano, naturalmente abbiamo avuto, e questo purtroppo le difficoltà, nel reperire i mezzi non lo nascondo, ma oggi siamo riusciti a ottenerli. Stiamo recuperando nelle contrade perché purtroppo il vero problema è che non solo ci sono richieste perché ci sono dei disservizi all'interno della città dovute a carenze che ci ereditiamo da anni e anni, ma le contrade in questi 20 anni non sono state mai servite dalla rete idrica, quindi noi ci ritroviamo anche le contrade a essere servite come negli anni passati. Stiamo recuperando, oggi il ritardo si è ancora più ristretto, e contiamo dunque che con gli interventi strutturali che stiamo facendo, quindi il primo tratto che lei l'ha invito a farsi una passeggiata non più in via Rumor perché in via Rumor l'abbiamo finito, non più in via Bellingue perché in via Bellingue l'abbiamo finito, ma in via Pestum dove la condotta finalmente sta arrivando con tutte le difficoltà e ringrazio la ditta perché anche il sabato in questo momento sta operando e lavorando per accelerare i tempi di realizzo, a breve arriveremo alla zona artigianale, quindi avremo possibilità di attingimento di altre 12 litri di acqua al secondo che serviranno il sabato che brucia e contiamo di risolvere strutturalmente, quindi sicuramente porteremo più acqua già ora, ma in prima vera prossima il secondo straccio di comportamento che continuerà questa rubazione che dalla zona artigianale arriverà fino al serbatoio dell'Asi posto di fronte alla mezza aziendale per i Mendeci. Questo è come noi stiamo affrontando qualcosa che è da 20 anni che invece purtroppo subiamo e l'espansione avvenuta negli ultimi 10 anni come lei sa bene, non si è posto il problema di come portare l'acqua in quelle zone che oggi abbiamo problemi invece, non si è posto il problema. Le do una buona notizia invece che a Meme siamo riusciti oggi finalmente a far arrivare l'acqua, quindi stiamo realizzando lo scarico e finalmente speriamo che in breve, dopo anche qui si parla di decenni, si parlava che era stato qualodato ma l'acqua non ce n'è mai arrivata e i fatti oggi lo dimostrano, a breve riusciremo, speriamo di non trovare intoppi quando avvieremo per la prima volta il portavvisatore speriamo che tutto funzioni e anche lì riusciremo a servire Nanto Camemi perché è la contrata dove è già realizzata e Gatto Corvino invece inserita nel piano triennale anche questa è programmazione perché ci consentirà di avere meno richieste dalle contratti di autobot e quindi eventuali servizi possono essere gestiti meglio o non solo, anche le contratti possono essere servite meglio. questo dopo io ho detto già vent'anni che nessuno fa niente allora detto ciò invece i problemi principali sono sempre nella zona selvaggio come le ha detto bene il consigliere Antoci nel centro storico non abbiamo problemi in questo momento c'è solo un tratto lo dico Vigo Carbonaro dove abbiamo dei problemi di appresamento sempre purtroppo problemi che ritiriamo dal passato che quando c'è un calo di pressione purtroppo quegli appresamenti ne risentono perché sono troppo piccoli per come sono realizzati stiamo cercando di intervenire stiamo avendo appunto un affidamento a un'impresa per cercare di provvedere anche in quei tratti dove l'acqua purtroppo arriva a singhiozzo a causa della minore pressione che abbiamo incontrata un aggiornamento anche sul corso manzini il corso manzini è stata risolta un'ulteriore perdita ora siamo riusciti in due punti di prenevo uno abbiamo risolto il problema ancora abbiamo un ulteriore punto di prenevo che ancora ci dà segnali di inquinamento però in questo caso abbiamo ristretta ancora e capitazione a circa 10-15 metri quindi speriamo che il prossimo intervento sia quello risolutivo per eliminare l'ultima perdita fognare che ancora stiamo rinvenendo vicino alla chiesa di Santa Lucia ultima cosa e poi chiudo il PUDM oggi è stato riapprovato in giunta perché l'arta ci aveva scritto dicendo che non gli bastava solo i passaggi in consiglio comunale ma voleva che la giunta approvasse l'atto del consiglio comunale le devo dire consigliere Chiavola che il diagramma di flussi che porta all'approvazione del PUDM è stato molte volte aggiornato se lei vede tutta la normativa che porta all'approvazione troverà due o tre diagrammi di flussi dove prevede diversi diversi diciamo un diverso iter di approvazione ci ha chiesto ufficialmente che l'atto venisse anche approvato dalla giunta dopo perché ricordo che in consiglio comunale fu emendato in alcune serrate quindi avete sentito l'assessore Giuffrida che ha parlato della questione acqua io lo capisco che il problema è annoso e di altri anni di altre amministrazioni però ora siamo come si suol dire quando i nodi vengono al pettine negli anni passati siamo riusciti dopo un po' a risolvere la questione ora però il problema diventa molto serio l'assessore dice ci stiamo lavorando stiamo captando stiamo facendo il serbatoio e poi dice però non date le colpe a noi perché noi questa cosa la stiamo prendendo ora io sono d'accordo con loro però non ci dobbiamo dimenticare che noi ci rivolgiamo all'amministrazione in carica mica possiamo andare che so al sindaco Arezzo o al sindaco Chessari a dire perché allora non avete fatto questo nel caso fosse colpa loro quindi purtroppo ognuno deve piangere il carico o deve sopportare il carico che gli viene dato e vi devo dire che poi il consiglio comunale che si parlava anche di bilancio l'assessore Giuffita verso le 21 ma quindi ne parleremo poi domani perché è una cosa molto interessante l'assessore Giuffita si è alzato un po' seddeato e ha incominciato a dire ah voi ve la pigliate con noi per tutta una serie di cose allora vi spiego come vanno quale sono le colpe qua e là e poi per esempio la colpe per dirne una ha parlato del teatro poi ha parlato del parcheggio di via Peschiera a Ibla e ha detto abbiamo avuto dei ritardi ma la colpa non è nostra io anche lì sono d'accordo la colpa non è loro ma come facciamo a risolvere il problema se non ci svegliamo da questo punto di vista io ho detto che Ibla ha bisogno di più ha bisogno di molto di più ci vuole un sindaco di Ibla ci vuole un assessore non vi dico un sindaco perché il sindaco dovrebbe esserci una secessione che non vogliamo che ci sia ma Ibla ha bisogno di più ieri ho fatto delle immagini pensatele al buio non ci sono i posteggi spesso c'è la spazzatura il sindaco l'ha detto allora per essere per essere all'altezza della situazione Ibla avrebbe bisogno di maggiore attenzione ma ne parleremo ora chiudiamo con la pagina della cronaca con il nostro Stefano Ferrera e poi ci saranno le rubriche che ormai sono diventate fanno parte del telegiornale di TeleIblea che sono quella di economia e poi la pagina sportiva però dopo il telegiornale io vi ricordo che tutto quello che facciamo su TeleIblea come trasmissione poi lo potete trovare sul sito teleibria.com e teleibria.it poi qualche giorno parleremo per farvi capire di che cosa si tratta cronaca poi l'economia grazie noi ci vediamo con le prossime edizioni passiamo adesso alla pagina della cronaca apriamo con il capitolo covid come di consueto sono due i nuovi casi registrati nelle ultime 24 è un dato che chiaramente suscita a scalpare la luce dell'aumento cospicuo dei contagi di queste settimane chiaramente il dato maggiormente attendibile è quello relativo ai ricoverati sono 33 tra il Giovanni Paolo II di Ragusa e il Guzzardi di Vittoria in particolare 31 al Giovanni Paolo II di Ragusa 16 nel reparto di malattie infettive 11 in area grigia 4 in terapia intensiva due soggetti sono invece ricoverati nell'area covid del Guzzardi di Vittoria lo stato attuale come sapete è proprio il comune di Vittoria risulta essere il comune della provincia di Ragusa con il maggior numero di positivi contenfatti 310 soggetti in isolamento domiciliare nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi legati al covid un decesso legato al covid si è però registrato in Sicilia non riguarda la provincia di Ragusa lo portiamo però alla luce un episodio estremamente triste riguarda il decesso di una bambina di 11 anni ricoverata all'ospedale di Cristina di Palermo la bambina soffriva dalla nascita di una grave malattia il covid in particolare la variante delta che l'ha colpita è stato troppo da sopportare la bambina non ce l'ha fatta è stata intubata per diversi giorni questa mattina intorno alle 11 è purtroppo deceduta a causa del covid abbiamo adesso argomento ondata di furti in provincia di Ragusa a Scicli si sono registrati due furti nello scorso weekend in particolare approfittando della città semivuota complice la bella stagione dei ladri un gruppo di gnoti si è introdotto in due abitazioni ha portato a segno depredandole completamente portando a segno i due furti ondata di furti che ha seminato panico scalpore tanta preoccupazione tra i residenti è stato creato in questo senso un vero e proprio allarme di conseguenza sono stati a ragione tra l'altro ho intensificato i controlli delle forze dell'ordine in questo senso è doveroso sottolineare che anche in altre zone della provincia di Ragusa a Vittoria in particolare sta prendendo piede un'usanza abbastanza preoccupante abbastanza temibile da parte di diversi lati che come vedete dall'immagine hanno iniziato a segnalare diverse abitazioni con simboli particolari simboli che riguardano la situazione a livello di furti a livello di furti relativa a ogni abitazione quindi quanto è pericolosa quell'abitazione quanto è pratica a livello di furti se l'abitazione presenta particolari problemi o meno insomma bisogna fare attenzione quando si registrano segni di questo tipo nelle proprie abitazioni è doveroso segnalarle immediatamente perché è complice appunto alla bella stagione le città semivuote purtroppo la nota di furti si registra sempre in maniera più cospicua chiudiamo adesso con una notizia che ci arriva da punta a braccetto una donna ha tentato il suicidio ingerendo pensate un'intera scatola di psicofarmaci soltanto l'intervento dell'ambulanza in servizio nella zona ha permesso di evitare il peggio i soccorsi sono stati tempestivi determinanti per salvare la vita alla donna ebbene è tutto per la cronaca di questa sera andiamo avanti con il telegiornale Il secondo trimestre ha segnato un forte rimbalzo del PIL con indicazioni positive in tutti i settori la tendenza ha però subito un rallentamento a luglio in concomitanza con la diffusione della variante Delta in Europa è quanto emerge dal rapporto pubblicato dal Centro Studi di Confindustria gli occupati a tempo determinato sono cresciuti da marzo tornando oltre i livelli pre-crisi non è ancora iniziata invece la risalita di quelli a tempo indeterminato dai dati della congiuntura flash del CSC emerge come le risorse pubbliche per misure emergenziali in campo per il 2021 raggiungano il 6% del PIL poco meno del 6,6% del 2020 nel mese di maggio rispetto ad aprile la produzione destagionalizzata nel settore delle costruzioni è aumentata dello 0,9% nell'area dell'euro e dello 0,7% nell'Unione Europea secondo le stime di Eurostat tra gli stati membri gli aumenti mensili più elevati sono stati registrati in Francia Polonia e Repubblica Ceca i maggiori cali si osservano in Slovenia Romania e Bulgaria nell'area Euro a maggio 2021 rispetto ad aprile 2021 l'edilizia è cresciuta dell'1,2% mentre l'ingegneria civile è diminuita dello 0,3% la stagione turistica negli agriturismi italiani procede a due velocità luglio e agosto secondo quanto rileva agriturist registrano il tutto esaurito in alcune zone del paese mentre altre stentano e risentono del calo delle presenze straniere agosto tutto tricolore nelle strutture del Trentino Alto Adige dopo un luglio condiviso con i tedeschi tiene la Sicilia apprezzatissima dal turismo prevalentemente nazionale bene anche la Calabria con luglio e agosto decisamente migliori dello scorso anno positivo all'andamento in Umbria dove la diminuzione degli stranieri è stata sostituita da famiglie italiane premiate soprattutto le strutture vicine al mare nelle Marche e in Campania in Lazio bene la ristorazione e le attività all'aria aperta ma si sente la mancanza del turismo anglosassone è stato annunciato dalla guardia di finanza e dall'agenzia delle entrate con un comunicato congiunto a firma del comandante delle fiamme gialle Giuseppe Arbore una serie di controlli sui conti correnti degli italiani quelli sospetti in modo particolare quelli in odore di grande evasione fiscale ma non solo quelli che hanno contatti con l'estero facendo spesso bonifici questo ovviamente per contrastare la grande evasione ma soprattutto anche il contrabbando di valuta a Grazie a tutti. Federica Pellegrini entra nella storia raggiungendo la sua quinta finale olimpica nei 200 stili libero. Nessuna nuotatrice prima di lei aveva ottenuto questo traguardo nella stessa disciplina. Per Federica, Argento d'Atene 2004, Oro a Pechino 2008, Quinta a Londra 2012 e Quarta a Rio 2016. L'1.56.44 le regala il settimo posto, non lontano tra l'altro dalla zona podio. Ho centrato il mio obiettivo massimo e sono veramente contenta. È tutto l'anno che faccio questi tempi, il livello si è alzato molto e io ci ho provato fino alla fine, ha raccontato la Pellegrini a fine gara. L'Inter, in seguito all'8-0, non ufficiale contro la Pergolettese, ritornerà in campo per una nuova amichevole mercoledì 28 luglio alle ore 18. L'avversario di scena al campo del Suning Training Center di Appiano Gentile sarà il Crotone, retrocesso la scorsa stagione dalla Serie A alla Serie B. E la copertura televisiva sarà fidata a Sky Sport per la diretta. Il tiro a giro di Lorenzo Insigne entra nell'enciclopedia Treccani come neologismo. Questa è la definizione. Nel calcio, il tiro a giro, fatto colpendo il pallone in modo da imprimerli un forte effetto, rientrare. L'enciclopedia fornisce poi alcune citazioni dai quotidiani del tiro a giro scritto rigorosamente tutto attaccato. Da anni questo modo di calciare è un marchio di fabbrica per Insigne e proprio con un tiro a giro ha segnato il gol contro il Belgio agli europei. Sui social però si è subito scatenata un'accesa polemica che vede contrapposte due fazioni, quella del tiro a giro di Insigne e quella del gol alla del Piero. L'Inter vuole Andrea Petagna. Lo vorrebbe in prestito, al massimo con diritto di riscatto. Il Napoli però su questa soluzione non è per nulla d'accordo. Il club partenopeo ha bloccato la partenza dell'attaccante che, considerando l'infortunio di Mertens, ha un ruolo fondamentale. Il belga infatti non sarà disponibile prima di ottobre e quindi Spalletti avrà per forza bisogno di un sostituto o quantomeno un giocatore in più nella fase offensiva. L'Inter, oltre all'attaccante del Napoli, pensa anche a Scamacca, anche se il preferito di Inzaghi rimane il bomber di proprietà del Napoli. La dirigenza partenopea, visto l'infortunio di Mertens, ha deciso di blindare Petagna, che quindi, a meno di clamorose offerte, non dovrebbe lasciare la campagna. L'inter, oltre all'attaccante del Napoli. Molte persone si accorgono dell'importanza delle agenzie di viaggio solo quando si verifica un problema o comunque hanno un imprevisto di viaggio. Ma quando ciò accade, poche cose sono più rassicuranti di potersi rivolgere ad un professionista che sa esattamente cosa fare, come e quando farlo. Ecco perché l'agenzia di viaggio Erea Tours di Ragusa, grazie ai suoi oltre 30 anni di esperienza, svolge un ruolo sociale ed essenziale in ogni momento della sua attività, sia quando vende un prodotto.